Che si dice? Una tua amica runner si è persa. Cosa? Chi? Come fai a sapere chi è mia amica? Troppe domande. Non so come si chiama, né se la conosci. Stava espandendo il mio accesso alla metà rete. Ma abbiamo perso i contatti. Dammi la posizione, vado a vedere. Te la mando. Mi spiace, Faye. No, non è colpa tua. Dipendenti di Glass, la nostra città è stata attaccata. Voi siete state attaccati. Il gruppo chiamato Novembre Nero ha rivendicato il bombardamento del centro commerciale Pabllo. Vi assicuro personalmente che la Krokersek non avrà pace finché i colpevoli non saranno trovati e puniti. Non resterò indifferente mentre qualcuno minaccia me e le persone che proteggo. E sono già state adottate a delle misure per assicurarci che questo atto infame non si riprende. Insieme a... Ora il pulsar dovrebbe mostrarti la sua ultima posizione. Ho intercettato le comunicazioni della Krokersek. Parlano di una runner intrappolata. Commetto che è lei. Infiltrarsi nella meta rete è davvero utile. Dovresti sentire di cosa parlano le famiglie. Molte sono preoccupate per la riflessione e alcune pensano che Kruger si stia spingendo troppo oltre. Ci sono. E anche la Krugersek. Forse riesco a mandarli via. Che ti serve per farlo? Per revocare la direttiva attuale l'allarme deve passare per un terminale verificato. Ne hai uno vicino. Ovviamente potresti anche attaccare ma il mio approccio è più divertente. Sono al terminale. Bene. Mi sto infiltrando. Ecco fatto. Stanno annullando l'attacco. Ora la tua amica dovrebbe essere al sicuro. Dovresti andare a dire alla tua amica che è in salvo. Ehi, sei al sicuro? Se ne sono andati. Tu sei Faith, vero? Ti ha mandato a Plastic? Esatto. Grazie. Credevo fosse la fine. Figurati, ci vediamo. Stai violando l'attacco. Stai violando l'attacco. Sono qui! Stai violando l'attacco. Sì, sì, sì. 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 Alla. Sì. 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 di qualcosa. La Krugersack disturba le comunicazioni. Dobbiamo tornare indietro, Fate. Ci vediamo là. Dannazione, sbrigati. Fate, vedo del fumo. Runner, dovete assistire. La Krugersack ci sta saltando. Noa, resisti. Arriviamo. Dannazione. Non credevo che sarebbero arrivati a tanto. Dobbiamo sbrigarci. Non posso contattare Noa né gli altri. La Krugersack disturba le comunicazioni. Noa. Noa. Sono al rifugio. Sono vicino. Ci sono ancora diversi vittori in giro. Il pulsare è calmo. Troppo calmo. Icarus? Sono tutti spariti. Fuori ci sono molti agenti. Fate. Vedo sacche per cadaveri. Icarus, ci sei? Sì, bastardi della Kruger. Sai che facciamo? Dobbiamo fermarmi. Sì, stai. No, no. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 . Sì. 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 ... 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